Saranno fanosi, voi sarete presenti alla BCC Arena la penultima sera. Si tratta di una storia di fantasmi, praticamente. Si svolge in un appartamento, ci sono questi fantasmi, ci sono altri personaggi, tocca vedere se fanno più paura i fantasmi o questi altri personaggi, ma tutto questo invitiamo i telespettatori a venirlo a vedere direttamente sul palcoscenico. La domanda che mi faccio è, faranno più paura i personaggi o i fantasmi? Perché i personaggi sono fanesi? Dunque, la compagnia si chiama Saranno Fanosi, proprio perché abitiamo tutti a Fano e uno solo di noi c'è anche nato, tutti quanti gli altri sono nati dovunque, tranne che a Fano. Io sono l'unico fanese della compagnia, sì. Quindi sarai uno dei fantasmi che parla in fanese o no? Sì. Appuntamento alla BCC di Fano il 1 settembre.